Amiche e amiche di Rossini TV, buona serata a voi. Eccoci qua in questa settimana natalizia, anche questa settimana al centro fisioradi di Vismara. Incontreremo il dottor Federico Dall'Olio, che è un tecnico ortopedico che si occupa nello specifico di plantari. Ci racconterà come è davvero fondamentale questa disciplina per quanto riguarda lo sport. Gli sportivi molto spesso hanno bisogno dei plantari per poter agire al meglio. Lo stesso dottore è un triatleta. Vedete alla mia sinistra Gino. Gino è vestito da babbo natale, oggi in realtà non è in tenuta sportiva come altre volte. È stato detto che deve mettere su un po' di pancia. Siamo sicuri che con queste feste natalizie sarà così per lui. Adesso andiamo dal dottor Dall'Olio. Ed eccoci qui nello studio col dottor Federico Dall'Olio, che è un tecnico ortopedico e proviene dalla scuola di medicina per questa pratica che nel corso degli anni ha assunto una grande importanza e lo diciamo subito fuori dalle telecamere. Chiaramente prima facciamo salutare il dottore. Buongiorno a tutti, il mio nome è Federico Dall'Olio, grazie per essere intervenuti. Siamo qui anche perché parleremo in prevalenza di plantari, ma la cosa importante da dire è che si fa sport, tutti facciamo sport, tutti ci divertiamo a fare sport, però tante volte non ci rendiamo conto che fare sport anche a livello amatoriale è una pratica importante. Il dottore ne è un esempio, lui che è un triatleta, quindi ci può sicuramente dire che lo sport non si improvvisa. Assolutamente no, fortunatamente oggigiorno diciamo che la scienza, le ricerche e quant'altro ci portano ad avere una maggior conoscenza di noi stessi, di quello che chiaramente il nostro corpo svolge nello spazio e chiaramente anche per migliorare tutte quelle che sono le nostre qualità pseudo-sportive che siamo noi atleti amatoriali oppure professionisti, chiaramente. Questo chiaramente ci è reso possibile come detto prima anche dalla scienza, dalle scoperte tecniche, eccetera. Qui ad esempio in Fisioradi noi utilizziamo prevalentemente una pedana baropodometrica per riconoscere appunto la postura e l'appoggio del piede a terra tramite sensori di pressione che vengono letti attraverso un computer e quindi questo porta ad avere un'idea massimale ovviamente di quella che può essere la nostra postura in piedi, prevalentemente statica ma anche in dinamica, quindi riconoscendo quello che è l'elica del passo stesso. Per esempio questa pedana noi la vediamo qui nello studio, adesso non si vede perché non è inquadrato dalle telecamere, ovviamente sta calcolando forse il plantare adatto al nostro 3P e di chi lo sa, però la vediamo davanti a noi ed è effettivamente uno strumento sicuramente innovativo. Come funziona esattamente? Praticamente come detto prima questa pedana ha un pannello di sensori di pressione a terra, quindi non facciamo altro che far salire il nostro utente, il nostro paziente direttamente sulla pedana in una posizione a lui comoda, quindi di comune postura quotidiana. Questo ci consente attraverso, come detto prima, anche il computer di verificare quello che è l'appoggio bipodalico del nostro utente a terra e quindi valutarne quello che può essere una distribuzione di carico piuttosto che anche una rotazione di quelli che possono essere i nostri baricentri corporei, baricentro chiaramente legato al nostro bacino e quindi anche agli arti inferiori stessi, nonché delle malposture che possono essere e possono venire a verificarsi direttamente sul piede stesso. E da qui viene poi, nasce anche magari l'esigenza appunto di dover fare un plantare e quando si parla di plantare è una struttura molto molto importante perché il plantare è in grado in realtà di correggere. Sì, diciamo che nella filosofia diciamo odierna il plantare è in grado di correggere soprattutto e mediamente durante l'età dello sviluppo, l'età dello sviluppo che chiaramente arriva fino anche ai 15-16 anni di età. Normalmente si tende a valutare il paziente in età di 5-6 anni, non prima, perché chiaramente prima c'è uno sviluppo di tutti quelli che sono gli schemi muscolari, gli schemi scheletrici e quant'altro, ma dopo comunque anche l'età dello sviluppo il plantare stesso, l'ortesi plantare diventa un ottimo strumento per quelli che possono essere dei compensi sia a livello posturale che di appoggio e di sostegno prevalentemente, più che di correzione, diciamo così. E questo anche magari in sport nei quali non ci si penserebbe mai. Prima parlavamo, anche un ciclista professionista, un ciclista che in seguito dei risultati importanti potrebbe aver bisogno del plantare. Assolutamente sì, chiaramente si va all'interno di una concatenazione di situazioni particolari nel mondo del ciclismo in cui è bene valutare tutta una serie di situazioni prima anche dell'appoggio plantare all'interno di quella che può essere una scarpetta da ciclismo. Quindi non si fa altro che fare magari una valutazione biomeccanica insieme al biomeccanico di fiducia, quindi per mettere bene in chiaro tutte le situazioni di misurazione all'interno proprio della bicicletta stessa, quindi del mezzo meccanico. Dopodiché se ci sono delle situazioni, appunto per il ciclista, di sovraccarico all'interno delle calzature da ciclismo si vede di intervenire in questo modo, chiaramente in questa situazione qui prevalentemente si cerca di valutare il ciclista con una strumentazione parallela alla pedana barocodometrica che non sono altro che solette con la medesima struttura che vengono introdotte all'interno delle calzature sportive e facciamo svolgere all'atleta, in questo caso comunque al paziente, l'attività direttamente sulla sua bicicletta, quindi con le sue misure. Questo ci porta sempre comunque ad avere un ottimo risultato di quello che può essere un appoggio di entrambi i piedi all'interno, quindi la deformazione anche del piede all'interno della calzatura sportiva e a costruire un plantare idoneo proprio per quel tipo di attività, per quel tipo di piede all'interno di quel tipo di calzatura sportiva. E in questo può rientrare la filosofia dell'esame del gesto sportivo? Assolutissimamente sì, questo è infatti la ragione per cui con Maurizio qui del centro Fisoradi abbiamo deciso di puntare molto sullo sportivo, prevalentemente perché lo sportivo a nostro modo di vedere oggi giorno è molto diffuso a livello di popolazione, quindi non c'è più una patologia unica da seguire per quello che concerne un paziente tipo, che può essere un paziente o in età giovanile, quindi in età di sviluppo, da correggere oppure ormai in età adulta o addirittura oltre i 70-80 anni, quindi oggi giorno chiamiamolo l'anziano perché magari ha delle patologie proprio dirette sul piede. Le patologie oggi che vengono, diciamo così, raggiunte con un'ortesi plantare, quindi mediate attraverso l'ortesi plantare si cerca di migliorare la situazione del paziente stesso, sono multiple, quindi non più solo patologie legate direttamente al piede, ma patologie legate agli arti inferiori o addirittura a livello di tronco, chiaramente a livello lombosacrale. E qui a Fisoradi, in questa struttura dove ci troviamo a Vismara, c'è tutto un processo finalizzato a far sì che si possa fare nel miglior modo possibile un plantare? Assolutamente sì, perché fra i vari specialisti appunto c'è un'ottima coesione di intenti e questo porta chiaramente il paziente a essere seguito in tutto e per tutto. Qui possiamo fare sia l'esame baropodometrico su pedana che del gesto sportivo attraverso queste solette baropodometriche per arrivare poi alla costruzione di ortesi finalizzate appunto al paziente stesso, quindi personalizzate su misura. Attraverso una rilevazione di impronta che può essere varia, che va dalla classica misurazione di impronte bidimensionale fino anche a una presa di impronta su calco con uno scanner tridimensionale, quindi progettazione, plantare, metodo CAD-CAM, diciamo così, e comunque sempre plantare ortesi su misura. Un'ultimissima domanda, dottore, visto che poi più avanti riprenderemo anche con uno specialista il discorso proprio dell'ortesi, della protesi all'anca, come ci accorgiamo noi comuni mortali a un certo punto che abbiamo una postura sbagliata? C'è qualche segnale, ci viene indicato da qualche cenno del nostro corpo? Allora, indicativamente è chiaro che una persona che conosce il proprio fisico se ne accorge naturalmente. Viceversa, essendo curiosi, diciamo così, portando la nostra curiosità dentro al centro fisioradi, possiamo scoprire magari di avere un deficit più o meno grave che poi, scoprendolo chiaramente in anticipo, ci può permettere di conservare meglio il nostro corpo e migliorare quelle, in questo caso, anche le nostre prestazioni sportive. Benissimo, dottore, grazie, lei è stato chiarissimo, ci ha fatto capire alcune cose che non sempre sono di immediata comprensione, perché delle volte o si tende a semplificare o a farla troppo difficile, invece così abbiamo capito perfettamente tutto, quindi davvero grazie. Grazie a voi. Cogliamo ovviamente l'occasione, insieme al dottore, insieme alla struttura fisioradi, insieme a Francesco Mazzetti, che ci segue da un punto di vista tecnico, Laura Mancini, che ci sta aiutando in questa importantissima opera di divulgazione medico-scientifica. Vi facciamo i migliori auguri di Buon Natale, davvero che queste feste siano le migliori possibili per tutti voi. Buone feste a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.